Dottor Nicodemo, che cosa possiamo fare in caso di artrosi d'anca nel paziente giovane? Diciamo che fino a 20 anni fa il paziente giovane con artrosi d'anca non veniva trattato sostanzialmente, gli ortopedici dicevano di aspettare fin quando poi sarebbe stato il momento di mettere una protesi. Oggi questo atteggiamento invece è assolutamente cambiato, primo perché le protesi funzionano molto meglio di una volta e quindi vengono impiantate anche in età giovanile, in realtà sotto i 50 anni. Dall'altro canto ci sono anche delle possibilità chirurgiche e non chirurgiche di trattamento dell'artrosi d'anca del paziente giovane in modo preventivo, quindi senza l'impianto di una protesi. Si va dalle infiltrazioni con acido ialuronico, con fattori di crescita, che sono sostanzialmente le procedure sintomatiche, ma anche oggigiorno c'è una branca della chirurgia dell'anca, che è una branca assolutamente super specialistica e quindi va fatta da chirurghi esperti, che si chiama chirurgia conservativa, che si contrappone a quella sostitutiva, che sarebbe quella protesica. Con la chirurgia conservativa sostanzialmente si cerca di correggere il difetto anatomico, cioè laddove l'ingranaggio è fatto male, ha un difetto congenito, si cerca con delle tecniche mini-invasivo-artroscopiche di andare a rimodellarlo in modo tale che poi l'artrosi non si sviluppi o si sviluppi molto più tardi. Ovviamente questo tipo di interventi hanno delle indicazioni molto specifiche, quindi sia la fase diagnostica sia la fase terapeutica va fatta da chirurghi esperti che si occupano di queste patologie.